Da non temere fino a Dio, nulla impossibile. Maria, donna di luce, madre di grazia, sorgente di dolcezza, regina della pace. Nostra Signora, come ci suona dolce questo. Quanto è bello avere la madre. Noi celebriamo la Sua venuta nella nascita e la Sua partenza nell'Assunzione. Celebriamo le Sue visitazioni, i Suoi dolori. Celebriamo il Suo nome, le Sue decisioni. Noi celebriamo i Suoi sabbati e i Suoi mesi. Insieme a lei comprendiamo che con Dio tutto è possibile. La Sua vita inizia con un incontro che ha cambiato sia la Sua vita che il nostro mondo. Credo anche noi radunati qui stasera. Oh, come incontri cambiano. Quel Suo incontro inizia con le parole dell'Angelo. Non temere. Hai trovato grazia presso Dio. Non aver paura significa credere. Come suona piacevole quando chi ha il potere dice, l'unico che ha il potere dice, non aver paura. Anche in tempi in cui nulla ci è chiaro. Anche allora, gli enigmi di Dio ci danno più pace che soluzioni umane. Sì. Gli enigmi di Dio ci danno più pace che soluzioni umane. Maria, fin dall'inizio, ci offre così una vita senza paura. Quanto cruziale è questo nella vita dell'uomo non aver paura anche quando il paradosso della sofferenza supera tutto. Perché è bene sapere che la storia è scritta nel paradosso dell'uomo migliore che poi ebbe il peggior destino. Sì, cari amici, è l'uomo migliore che ebbe il peggior destino. Quel figlio dell'uomo, figlio di Maria, è la ragione sufficiente per sopravvivere a tutti i paradossi di questo mondo, perché l'incontro più importante possa avvenire anche a noi. L'incontro più importante della sua vita si conclude con le parole dell'angelo. Nulla è impossibile a Dio. Cari amici, quanto è bello saperlo. Nulla è impossibile. Non esiste l'impossibile. Se è colui che ha contato tutti i granelli di sabbia su tutte le sponde della madre terra, se ha posto nel fermamento tutte le stelle, la lampada più grande, se ha nascosto il grande nel piccolo, l'universo nell'atomo, l'uomo nell'embrione, l'eternità in un momento, l'amore nel cuore, se stesso in noi. Si è iscritto le tracce in tutto l'intelligente. Ci parla nell'intelligenza della creazione che ciò che è intelligente all'inizio deve anche avere un senso, un grande senso, nella propria fine. Se esiste un mondo invisibile agli occhi, silenzioso alle orecchie, irraggiungibile alle mani, se c'è un mondo in cui i vasi rotti diventano interi, se nulla è impossibile per l'onipotente, allora perché dovrebbe essere impossibile per noi credere che tutto sia possibile? perché dovrebbe essere impossibile dunque credere che tutto sia possibile? Perché dovrebbe essere impossibile cambiare il cuore, pensiero, vita, carattere, famiglia, cambiare oggi, stasera? Perché questo dovrebbe essere impossibile? Perché dovrebbe essere impossibile credere alla Madonna, a prescindere dal fatto che parli con il suo silenzio o con la sua apparizione? Perché? Quando l'impossibile non esiste più nella nostra vita, quando tutto diventa possibile, allora noi partiamo sul viaggio, allora nella nostra vita diventa tutto possibile, allora, ma veramente allora, inizia la vita, come nel momento in cui il sole tocca la terra. Perciò, cari amici, se ami la vita, non perdere tempo, perché è di questo che è fatta la vita, non perdere il tempo pensando che esiste l'impossibile. grande San Agostino dice una grande verità quando dice poiché ogni creatura è stata creata dal nulla, porta con sé l'eredità di non esistenza. c'è una specie di ombra del nulla che perseguita ogni cosa finita e ogni uomo. Questo è ciò che sentiamo tutti nelle nostre ossa. Non importa quanto buona, bella ed eccitante sia la condizione essere qua giù, è già destinato a passare nell'inesistenza. Immaginate un bellissimo spettacolo di fuochi d'artificio esplode come un fiore gigante e poi in un attimo scompare per sempre. Tutto qui è definitivo come fuochi d'artificio. Questa finalità è il destino del nostro corpo la destina del cammino umano. Ma la Madonna Maria quella donna semplice umile ma donna eccellente di Nazareth ci insegna e ci conduce a colui che ha il cielo che ha il potere di dire sia fatto così. non solo sia fatto così ma anche che rimanga che non finisca. Questo sia fatto così rimane per l'eternità. Una volta che vediamo questo bene possiamo imparare ad amare le cose di questo mondo senza attaccarci ad esse e questi attacchi alle cose sono pericolosissimi per il nostro destino. Immaginate quante delusioni e dolori potrebbero essere evitati quando conosciamo accettiamo questa semplice verità finale tutto ciò che è finale ha il suo significato nel eterno di Dio sia fatto così possa esserlo sempre. Se cari amici comprendiamo questa linea sottile tra l'impossibile e impossibile definitivo nel eterno stasera in questo giorno ci domandiamo dov'è Meggiugorie perché così tante anime vengono a Meggiugorie cosa le attira perché si confessano e cambiano vita perché salgono su queste coline perché i piedi nudi corrono sulla pietra calda volente perché vengono da ogni fuso orario lingua dolore perché sì perché questo villaggio alla fine del mondo povero e poco attraente sui Balcani confusi dove nulla è semplice questo villaggio diventa un centro di grazia è impossibile chiedete ai milioni di persone che hanno passato su queste pietre queste coline e questo mistero del possibile che la vita è impossibile anche il loro diventa il mistero del possibile Maria è silenziosa e forte soave e forte gentile sempre materna madre continua continua a sussurarci dell'amore i sussuri sono la mistica dell'amore una madre sussura le cose più belle che esistono in lei al piccolo figlio del suo amore quando confessiamo i nostri peccati non gridiamo ma sussuriamo il sussuro è segno di amore di sincerità Maria continuamente sussura e ci dice cosa dobbiamo fare se Maria è con lei per mezzo della quale Cristo è nato e lo è e se la Chiesa è realmente il corpo mistico di Cristo e lo è allora è con lei per mezzo della quale Gesù continua a nascere nei cuori dei credenti questo è allora possibile amico mio per te e per me quando smetti di credere nell'impossibile caro amico con questa dolce Madonna lo rende possibile perciò bisogna domandarsi perché sei qui stasera perché siamo venuti per l'anniversario eccoci qui perché crediamo che nulla sia impossibile perché crediamo che l'amore infinito che la grazia è più grande del percato perché crediamo che la vita è più grande della paura e lo spirito è più forte della tentazione perché desideriamo la forza dell'animo le persone forti spiritualmente sono persone potenti non hanno il potere di questo mondo ma hanno un potere che cambia i potenti e si piega verso i deboli siamo qui perché non vogliamo perdere la nostra anima quando io perdo la mia anima attiro con me i perduti quando io ho l'anima ho il potere di salvare le anime siamo qui cari amici perché vogliamo essere madri d'amore padri di bontà figli di luce come una mamma che accudisce un bambino lo nutre lo veste lo bacia e lo manda a scuola così fa la madonna a noi ci invia ha bisogno di noi oggi molto probabilmente più che mai in un mondo che pensa di poter fare tutto da solo di essere più intelligente di tutti prima di lui ci ricorda costantemente che non puoi farcela da solo continua a dirci che ha bisogno di noi che ha bisogno di noi così come siamo fragili deboli ha bisogno di noi la cosa peggiore nella vita è quando qualcuno ti dice che non ha bisogno di te ed è più bello vivere quando qualcuno sempre ti dice che ha bisogno di te lei ci dice ce lo ripete continuamente che ha bisogno di noi perciò cari amici mentre celebriamo maria mentre celebriamo la madonna degli umili mentre ascoltiamo le parole non temere mentre crediamo che l'impossibile non esiste mentre percorriamo il sentiero spianato da milioni di persone prima di noi mentre sappiamo che ci dice che ha bisogno di noi sappiamo sì sappiamo che Medjugorje oggi è la speranza di un'Europa morta è la speranza della chiesa confusa è una luce per il resto del mondo l'inizio del nuovo che è un luogo di ritorno a se stessi che è un luogo di pace che perdona perché sappiamo che qui abita la verità qui vive il cristianesimo ritorniamo agli inizi del cristianesimo qui non abbiamo paura davanti a Dio di spogliare l'uomo vecchio coppia di questo mondo qui non abbiamo paura di essere originali come lui ci ha creati qui crediamo nell'impossibile qui sussurriamo le nostre preghiere più sincere e quindi cari amici quando tornate a casa quando arrivate a casa quando siete di nuovo nello stesso posto e con le stesse persone diventate apostoli che vivono ciò che hanno sperimentato e credono ciò che dicono sì è possibile con lui tutto è possibile con Maria tutto è più facile iniziamo da capo quando torniamo a casa Amen Amen